La mia persona di entrare in buro è stata una scelta di 4 ore in cui abbiamo trovato un attacco in Roma su questa scelta l'anno spesso qui era una temporada di 21 di Dezember e avevano un attacco che arriva da persone grandi e qui un maltrato Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.